Sapevi che in Inghilterra, se qualcuno trova una balena morta su una spiaggia, la testa appartiene al re e me è la coda della regina? Io non capisco cosa se ne debbano fare di sta cosa, però che schifo, raga, un pochettino, ma vabbè. Nella città di York si può uccidere uno scozzese all'interno delle antiche mura se ha in mano arco e frecce. Immagino che tutti comunque camminino tipo cavalieri lì, boh. Nel Kentucky non si può portare un'arma di nascosto lunga più di 182 centimetri. Spiegatemi come uno dovrebbe nascondere un'arma di un metro e ottanta. Non voglio sapere dove sarà di infilare, sinceramente. In Florida, le donne che fanno paracadutismo di domenica rischiano la galera, ma solo quelle non sposate. Quindi se siete sposate, vi potete buttare da dove volete, tranquilli.